Un consiglio straordinario voluto dal Movimento 5 Stelle sul Superbonus. 500 imprese, 6.000 lavoratori e 1.000 cantieri. Questi numeri che disegnano l'indotto delle costruzioni cui i crediti fiscali sono bloccati dopo il decreto del 16 febbraio. E in Regione le opposizioni fanno fronte comune. A Teramo, Ance e Confindustria firmano un patto per creare alleanze tra le imprese associate e fa riflettere il tentativo messo in campo da privati che un po' rispecchia l'invito del Presidente Bonomi che a livello nazionale aveva già parlato del coinvolgimento di imprese solide nel circuito del credito d'imposta. Io ho qualche idea, ce l'ho messa anche all'interno del progetto di legge che abbiamo presentato il 7 febbraio. Lì dove ci dovesse essere l'impossibilità di tornare a cambiare direzioni di fare un'inversione di marcia su quello che il decreto vergogna ci potrebbero anche essere altre soluzioni che riguardano gli F24 dei privati e quindi si potrebbe ragionare anche in quella direzione ma naturalmente va valutata con gli uffici, con la parte tecnica. Noi naturalmente abbiamo impegnato quelli che sono i debiti degli enti locali trovando una soluzione, trovando una quantità infinita di risorse loro hanno fatto lo stesso perché hanno copiato il nostro provvedimento la cosa che mi sorprende è che 24 ore dopo sono stati smentiti dalla loro maggioranza. Oggi non hanno più scuse, oggi questa regione è una regione di centrodestra a livello nazionale abbiamo il centrodestra, voglio capire questa volta qual è il loro alibi. Cosa potrebbe comportare il mancato efficientamento energetico degli stabili non è difficile immaginarlo e poi ci sono i numeri, i 2 miliardi di investimento con il miliardo e mezzo portato in detrazione e quel 70,4% dei lavori portati a termine. Ringraziamento al Movimento 5 Stelle per aver centrato un tema rilevantissimo ci occupiamo delle persone, di cittadini, imprese, delle famiglie che rischiano ovviamente di andare sull'astrico e soprattutto rischia l'intero comparto una grave crisi anche occupazionale. Questo è il punto che ci vede combattere insieme rispetto a una richiesta di consiglio straordinario che serve a stanare Marsilio e ovviamente contiamo di farlo anche dopo ma intanto Marsilio oggi ci deve dire se sta dalla parte degli abruzzesi o dalla parte della Meloni e ci deve anche spiegare il perché ha collezionato un disegno di legge arrivando peraltro in ritardo rispetto al Movimento 5 Stelle senza sapere che il giorno dopo Meloni stessa l'avrebbe smentito.